Ciao, mi chiamo Raul. Ok, ma tu perché parli in spagnolo? Perché è la lingua di mio papà. Ah, perfetto. Ciao, io mi chiamo Lea. Lea? Lea? E tu dove sei, Lea? Sono di Roma. Ciao, mi chiamo Fabio. Fabio? Ok. Ciao, mi chiamo Lele. E tu? Io mi chiamo Famid. Famid? E tu dove sei? Da Bangla. Mi hai parlato, eh? Eh? In che lingua hai parlato? In Bangla. In Bangla. Ok. Ok. Assalgo a Vatapoliziano. Aspetta, non te nascondi. Dimi un'altra volta. Dai inizio. Ciao. No. Ma tu in che lingua mi parli? Parlo in bengalese. Bengalese? Ah, ok. Ciao. Io mi chiamo Morgana. Morgana. Ciao. Ciao. E tu dove vieni? Ah, c'è un po' italiano. Un po' italiano. Ok. 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 Hola, mi chiamo Francesca. Hola, Francesca. Hablas espanol? Si. E perché? Eh, perché mi piace. Ah, ok. Perfetto. Ah, e tu dove vieni? Da Bangladesh. Da Bangladesh. Ok. Ciao, io mi chiamo Leon. Leon? Ok. E tu sei? Ciao, io mi chiamo Lara. E tu? Hola, mi chiamo Cristian. Cristian? Anche tu, Cristian? Hablas espanol? Si. Un pochino? Ah, ok. Un pochino. Un pochino. Masi o meno. Hola, mi chiamo Tayin. Hola, Tayin. Ok. E tu parlavi anche qualche altra lingua? Si, si. Bengalese. Bengalese? E come lo diresti allora? Assolutamente, mi chiamo Tayin. Ah, ok. Perfetto. Ciao, mi chiamo Luca. Luca. Ok. Deve sei Luca? Di Roma. Di Roma. E tu? Mi chiamo Anisha. Anisha? E tu dove sei Anisha? India. India. Ah, della India. Hola. Mi chiamo Maria Grazia. Ok. E sei la maestra? Della terza B. Ok, perfetto. Hola, hola. E la terza B. Hola, la terza B. Mi. Ok.